Scusate, sono ancora perplesso perché non ho risolto un dilemma che a suo tempo mi ha posto Siusi. Siamo arrivati in un luogo bellissimo facendo i turisti e in questo luogo bellissimo c'erano due alberghi, un albergo bruttissimo e un albergo bellissimo, che si guardavano l'uno in faccia all'altro. E allora lei mi ha detto, ma dove andiamo? Se andiamo in quello bellissimo poi apriamo le finestre e vediamo quello bruttissimo, che schifo! Se andiamo in quello bruttissimo apriamo le finestre e vediamo quello bellissimo, ma siamo in quello bruttissimo. Io non l'ho ancora risolto questo dilemma e credo che sia un dilemma che riguarda la bellezza. Grazie a tutti! Grazie a tutti!